Il direttore della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Alberto Barbera boccia senza mezzi termini quello che agli Oscar è stato giudicato come miglior film. Venezia ne esce comunque a testa altissima, con l'Oscar per la migliore G andato a Gen Campion, per The Power of the Dog, Il Potere del Cane, e per le sei statuette attribuite a Dune, evento mondiale fuori concorso alla mostra di Venezia. L'ultima edizione degli Oscar passerà alla storia per le due cose più brutte e negative viste sul percoscenico del Dolby Theater in tanti anni. La prima è l'inconsulta reazione di Will Smith a una infelice battuta del presentatore e l'altra è la statuetta più ambita, quella per il minor film, attribuita a Coda, che è sicuramente un film modestissimo, il più brutto tra i dieci nominati. Così, nelle ultime nove edizioni degli Oscar americane, per sette volte un film di Venezia si è giudicato la statuetta per la migliore G, a bocca asciutta invece è rimasto l'italiano Paolo Sorrentino, conne stata la mano di Dio. Noi di Venezia possiamo essere soddisfatti perché ne usciamo ancora una volta a testa alta con il premio per la migliore G a Jane Campion, che aveva già vinto lo stesso premio all'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia il settembre scorso, e per le sei statuette attribuite giustamente a Dune di Denis Villeneuve, che a Venezia invece era fuori concorso. Tutto ciò suona come una conferma, se mai ne avessimo ancora bisogno, del fatto che Venezia ormai è il trampolino di lancio per i film che poi approdano alla cerimonia degli Oscar.